Il cammino di questi bambini è intreso di sofferenza. Sono impotenti verso il presente, ma tu puoi cambiare il loro futuro. Grazie al tuo sostegno molto è stato fatto per dare speranza a chi ne ha più bisogno. E grazie a te ancora molto può essere fatto. Aiutaci a cambiare il loro destino. Dona al 45531. Grazie. Grazie a tutti.